Degrado, cambiamento. Cambio del degrado. Vedendo tutto il degrado sociale, politico, economico, ambientale, climatico che c'è in questo mondo, certo da soli non si può fare niente, ma nell'unità di gente di una certa qualità è possibile un miglioramento di sicuro. Con Palermo c'è stato sempre un rapporto viscerale, ho sempre fotografato persone in realtà. Durante il lockdown chiaramente è cambiato tutto, nel senso che ho fotografato solo strade vuote, insomma, deserte, quindi necessariamente c'è stato un cambiamento di sguardo. Facendo questi giri ho visto anche vie, strade che normalmente non frequentavo. Senza persone vedi tutto in modo diverso. Spettrale, sì, però scopri cose, dettagli, architetture che non avevi visto prima. C'è stata qualche sorpresa. Il titolo è dei cittadini che nessuno ha visto. La città che nessuno ha visto. Probabilmente non l'ho vista neanche io, è stato un momento delirante della cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.